Nel mondo spietato dell'alta finanza Queste due sorelle fanno un lavoro micidiale Nessuno lo fa in modo altrettanto pulito Nessuno la fa franca con altrettanto stile Solo una donna poliziotto ha trovato il modo di braccarle Dall'acclamato regista di film d'azione Corey Young Columbia Pictures presenta Xiu-Chi Zhao Wei Karen Mok So close campos fresco T0 Nessuno lo fa e turno appoko 2 r